ciao a tutti bentrovati sul mio canale sono djpec bentornati su forza borgo la rubrica dove parlo di eccellenza ombra di vivi al tutevere sansepolcro ovviamente anche del settore giovanile ieri andata di scena la sesta giornata questi risultati assisi subasio orvietana 0 a 0 ducato ponte valleceppi 0 a 0 ellera angelana 0 a 2 gualdo casa castal da castel del piano 1 a 2 narnese lama 1 a 0 tiferno spoleto 1 a 1 trasimeno sanzisto 0 a 1 e sansepolcro nestor 1 1 la classifica vede la tiferno l'erchi in testa con 13 punti angelana narnese 12 punti ponte valleceppi 10 spoleto trasimeno sansepolcro 9 punti castel del piano 8 via via tutti gli altri pareggio del sansepolcro che non ci voleva ci voleva una bella vittoria però comunque c'è da dire che la squadra ha lottato fino in fondo si è espressa abbastanza bene probabilmente è mancato un po di cattiveria sottoporta certamente si è trovata di fronte una nestor agguerrita ben messa in campo stretta fra le parti che ha lasciato poco spazio al gioco del sansepolcro mister bonura penso si possa ritenere abbastanza soddisfatto ovviamente c'è ancora da lavorare per cercare di raggiungere quelle posizioni di testa che la squadra l'ambiente la società si aspettano di arrivare la strada ancora è lunga c'è tanto lavoro da fare ma siamo sicuri che mister bonura e tutti i ragazzi ce la metteranno tutta queste le immagini della partita con le parole di mister bonura prese come sempre dal canale youtube di tef channel a voi le immagini sansepolcro e nestor si ritrovano al buitoni dopo oltre 25 anni era il campionato 93 94 il sansepolcro in quella stagione vinse il campionato di eccellenza e salì in serie d per la formazione di casa fuori zanchi e valori per una contrattura mentre per la nestor parte dalla panchina goretti 433 lo schema per entrambe le formazioni e sansepolcro che parte forte chiude la nestor nella propria metà campo e al settimo minuto passa in vantaggio con un'azione ficcante iniziata da braccini proseguita sulla corsia sinistra da mencagli che serve al centro dulzo che si gira bene in aria e realizza l'uno a zero in diagonale sempre sansepolcro in avanti al quindicesimo con arcaleni ci prova dalla distanza ma la palla è fuori al ventesimo la prima occasione della nestor porta la formazione perugina al pareggio cross di scappini per la testa di fastellini che spalla la porta gira sull'angolo lontano scavalcando il portiere cristoforetti e dando il pareggio al nestor al trentesimo ci riprova per il sansepolcro d'urso che conquista solamente un calcio d'angolo su deviazione di un difensore al trentacinquesimo c'è il contropiede della nestor che porta nofri o nofri al tiro potente ma fuori allo scoccare del quarantacinquesimo e allo scadere del primo tempo ci prova anche arcaleni per il sansepolcro ma anche in questo caso la palla è fuori si vale a riposo sull'uno a uno e la ripresa inizia con la nestor decisamente più avanzata al quindicesimo c'è la conclusione al volo di sisani dalla distanza ma la palla è fuori tre minuti dopo il sansepolcro manda in campo massaie conti a rilevare arcaleni e benedetti per la formazione bianconera c'è maggior freschezza in campo ma è sempre la nestor a pigiare sull'acceleratore ad andare vicino al gol in una mischia dentro l'area l'azione viene però fermata dall'arbitro al ventitresimo si rivede il sansepolcro con mencagli che prova a sorpendere il portiere bagnetti dalla distanza la sua bellissima conclusione da 30 metri si stampa sulla traversa al quarantesimo ci prova ancora il sansepolcro con massai la sua conclusione però è neutralizzata dal portiere della nestor in due tempi finisce uno a uno chi scende in campo tutti per vincere o dentro fuori che abbiamo pareggiato oggi domenica se avessimo venuto oggi ero uguale a casa del piano ma doveva vincere come giusto che sia quindi quello deve essere nel nostro dna quindi andare su tutti i campi prova a vincere dopo c'è sempre l'avversario c'è sempre che ti può mettere in difficoltà però ripeto la squadra oggi ripeto non posso riproverare nulla sotto l'aspetto di impegno anche del gioco la manovra peccato ripeto per quello che ho preso perché effettivamente loro hanno fatto poco per per impensirci ripeto però il calcio questo e bisogna prendere il punto e andare avanti questo è quello che è successo ieri a sansepolcro al buitoni prossima domenica e la sansepolcro sarà impegnato in trasferta in quel di castel del piano vediamo adesso al settore giovanile poteva essere un'altra giornata da tutte vittorie giornata con due vittorie e una sconfitta piuttosto netta piuttosto amara partiamo dalla juniores impegnata sabato con la juniores della nestor è arrivata una brutta sconfitta per i ragazzi di mister lodi squadra che ha fatto un grosso passo indietro sul piano del gioco slegata reparti troppo lunghi poco ritmo non sono riusciti a esprimere gioco solo lanci lunghi dispiace dispiace perché probabilmente i mezzi le possibilità ci sono i mezzi ci sono vanno indubbiamente sfruttati meglio speriamo che per i ragazzi di mister lodi questo sia un campanello d'allarme che porti a migliorare nelle giornate prossime prossimo sabato i ragazzi saranno impegnati al campo tevere contro il castel del piano sono secondi con 13 punti allievi invece hanno giocato domenica mattina hanno avuto una bella vittoria hanno riportato una bella vittoria per 4 a 2 contro il castel del piano primo tempo hanno dominato incredibilmente portandosi fino al 3 a 0 nella ripresa forse già convinti di aver vinto o comunque gli avversari sono entrati in campo con un pilo diverso hanno subito il la rimonta del castel del piano fino alla 2 a 3 per poi chiudere la partita nel finale risultato 42 devo dire meritato complimenti a tommaso nardin e suoi ragazzi che domenica saranno di scena in trasferta contro il castiglione del lago si trovano al secondo posto in classifica con dieci punti seppur in coabitazione con altre 45 formazioni insomma il campionato all'inizio è ancora abbastanza equilibrato comunque buona prestazione per i ragazzi di mister nardin i giovanissimi invece hanno giocato anche loro domenica mattina erano in trasferta si sono scambiati l'avversario con gli allievi con il castel del piano hanno vinto 2 a 1 buona prova dei ragazzi di mister fortuni che si stanno comunque ben comportando in questo inizio di stagione hanno 7 punti in classifica sono al quarto posto domenica prossima gli aspetta anche qua si inverte l'avversario si scambiano l'avversario con gli allievi e affronteranno allo stadio tevere domenica mattina il castiglione del lago bene ragazzi questo era tutto per quello che riguarda forza borgo iscriviti condividi spamma datemi una mano a crescere con questo mio piccolo canale ci sentiamo per quello che riguarda il sansepolcro calcio l'eccellenza umbra e il settore giovanile del sansepolcro la settimana prossima a presto ciao